Dopo aver liberato la Galleria Umberto I di Napoli dai Clochard, inizia ora l'intervento di messa in sicurezza dell'intero monumento, condominio partenopeo. In queste ore riunioni si sono susseguite tra prefetto, forze dell'ordine, condomini della galleria, esercenti e istituzioni. C'è bisogno di videosorveglianza ma anche di un piano economico commerciale di rilancio dell'intera struttura in cui attualmente sono presenti negozi, bar, fast food e un ufficio postale. A lanciare proposte di fattibilità e rilancio strutturale e commerciale il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Al centro del progetto l'apertura di nuovi negozi di ristorazione, sfruttando gli spazi abbandonati da anni che permettano di vivere la galleria, oltre le 20 orario di chiusura dei magazzini. L'installazione di videocamere di sorveglianza e la presenza di vigilantes che affianchino gli uomini della Polizia Municipale. Le proposte sono già venute sul tavolo che ha convocato il prefetto e che io lo ringrazio perché per la prima volta il prefetto ha messo in campo tutte le parti, i condomini insieme al pubblico, che era una cosa che stavano sempre incontenzioso. Da parte del pubblico l'impegno del sindaco è stato quello di un progetto per il recupero di tutta la galleria, parliamo della pavimentazione, parliamo del tetto. Poi sono entrato in campo i condomini dove io li ho esortati a mettersi insieme e fare un intercondominio per tentare di dare una sicurezza notturna a questi luoghi con la presenza di una guardia giurata. Noi faremo la nostra parte, potremmo mettere una videosorveglianza a 360 gradi su tutto il circondario della galleria, in questo modo noi renderemo sicuri e vivibile la galleria. A questo punto per renderla ancora più vivibile dobbiamo veramente viverla la galleria, quindi dobbiamo diversificare un po' le attività che ci sono qua e sollecito i proprietari che hanno questi locali chiusi di poterli fittare, metterebbero in condizione la galleria di non avere sarasinesche chiuse, ma anche di renderla ancora più vivibile. Se è possibile mettere qualche altro negozio di food in modo da poter allungare la vita giornaliera della galleria, non chiuderla alle 20, ma essere aperta anche dopo questo orario qua.